Falsi Green Pass acquistati da oltre 120 persone che non avevano mai ricevuto alcun vaccino né eseguito il tampone, aggirando i presidi di sicurezza informatica dei sistemi sanitari di Campania, Lazio, Puglia, Lombardia, Calabria e Veneto attraverso intrusioni illegali. E' quanto emerge dall'indagine della Polizia Postale che hanno portato a decine di perquisizione in tutta Italia su delega della Procura di Napoli. Le false certificazioni in grado di superare i controlli delle app erano ottenute sfruttando i canali di accesso delle farmacie per inserire i codici dei tamponi e dei vaccini effettuati in modo da generare il Green Pass.